Progetto Car Detailing 1370 Porsche 993 Carrera 4S Benvenuti alla carrozzeria labronica, nel caso di specie abbiamo individuato queste tipologie di difetti Leggero sporco stradale e contaminazione di smog atmosferico inquinante Ologrammi, sassate, swirle, graffi circolari, rizze che sono altri piccoli graffi di lieve entità Opacità del trasparente e soprattutto le cose che balzavano all'occhio Erano difetti di precedenti lavorazioni come potevano essere sporchini, colature o bucce d'arancia Anche i cerchi e le pinze del freno, ahimè, avevano queste tipologie di difetti Sembra, come vedete anche dalle immagini, che di difetti non ce ne siano In realtà per arrivare al risultato finale a cui noi abbiamo, il lavoro da fare è tantissimo Mettiamoci al lavoro, vi lascio alla visione delle prossime clip Mettiamoci al lavoro, vi lascio alla visione delle prossime Mettiamoci al lavoro, vi lascio alla visione delle prossime Mettiamoci al lavoro, vi lascio alla visione delle prossime Mettiamoci al lavoro, vi lascio alla visione delle prossime Mettiamoci al lavoro, vi lascio alla visione delle prossime Mettiamoci al lavoro, vi lascio alla visione delle prossime Mettiamoci al lavoro, vi lascio alla visione delle prossime Mettiamoci al lavoro, vi lascio alla visione delle prossime Mettiamoci al lavoro, vi lascio alla visione delle prossime Mettiamoci al lavoro, vi lascio alla visione delle prossime Mettiamoci al lavoro, vi lascio alla visione delle prossime Mettiamoci al lavoro, vi lascio alla visione delle prossime Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.